Sembrava una tranquilla giornata di mare. C'era chi nuotava, chi prendeva il sole e chi giocava spensierato sulla riva, quando all'improvviso sono arrivate delle onde anomale, sempre più grandi fino a raggiungere un metro di altezza, provocando paure e sgomento tra i bagnanti delle spiagge di Sassonia, tanto dall'armare il bagnino che ha urlato e fatto uscire tutti dall'acqua per precauzione. E quanto è successo stamattina, poco prima delle 11 sul litorale di Fano? Non è chiaro ancora il motivo, ma il fenomeno potrebbe essere dovuto al passaggio di una grande nave al largo della costa. Che cosa è successo esattamente? Guarda, noi con precisione non lo sappiamo, ci siamo collegati agli altri bagnini, Torrette, Marotta, Peso, Regimara, per sapere se avevano vissuto la stessa nostra esperienza, però effettivamente ci sono state delle onde anomale con il mare denominato in spiagura, proprio fermissimo, a mare calmissimo, due onde di 80 anche un metro di altezza, improvvise con un risucchio dell'acqua di 7-8 metri in anticipo, per cui sembrano quasi dovute a scosse o qualcosa del genere. La stessa cosa l'aveva fatta ieri sera, ma in tarda serata, verso le 7 e mezza, 7 e tre quarti, per cui già la gente in riva ce n'era quasi niente, per cui nessuno si è accorto di niente. Oggi invece l'ha fatta circa mezz'oretta fa, è stata una cosa abbastanza... beh, qualcuno si è fatto anche male, perché è stata proprio improvvisa e da niente, quindi non ci sappiamo spiegare. C'è stato un po' di spavento, per cui tra chi ovviamente era in acqua. Sì, sì, ma tuttora ancora c'è, perché fino a mezz'ora fa c'erano centinaia e centinaia di persone in acqua. Adesso sono uscite perché qualcuno si è anche nel rotolarsi con le onde e si è fatto anche male, soprattutto qualche persona un po' più adulta, un po' più grande e qualche bambino. Tommaso, lei era sulla torretta in quel momento, per cui ha assistito a questa scena e ha fatto uscire tutti dall'acqua? Sì, è stata la cosa più spontanea e più immediata che mi è venuta in mente di fare, ma ci è voluto qualche secondo anche per realizzarla la cosa, perché da una giornata più che tranquilla di agosto sulla torretta ci siamo ritrovati veramente in pochissimi secondi. Io ho il pattino di salvataggio che è stato scalaventato a 7-8 metri dalla torretta, ha tranciato anche qualche persona, io sono stato completamente inerme. Ecco, è la prima volta che mi ritrovo veramente inerme davanti alla situazione ed è anche difficilissimo fare prevenzione, perché il nostro lavoro adesso, sai, è fondamentalmente questo, preveniamo l'incidente prima che capiti, ma così era impossibile farlo. Adesso c'è bandiera rossa per scongiurare che ricapiti, ma abbiamo gli occhi fissi sul mare, non possiamo vietare alle persone di fare il bagno, ma ho voluto, mi sono imposto e questa volta ho deciso di tenere le persone fuori dall'acqua per più di 10 minuti per vedere se la situazione si riproponeva o se il mare comunque era praticabile.